8, 9, 10, gira 1, via, 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 via. Elevati al di sopra delle masse che hanno paura di agire. Nascondersi come una tartarulla nel guscio non è vivere. Un samurai deve possedere un eroico coraggio. Ciò è assolutamente rischioso e pericoloso. Ciò significa vivere in modo completo, pieno, meraviglioso. L'eroico coraggio non è cieco, ma intelligente e forte. Intenso addistramento rende il samurai svelto e forte. È diverso degli altri. E gli acquisisce un potere che deve essere utilizzato per i beni comuni. Possiedi con passioni, con gli eoni, opportunità di essere d'aiuto ai propri simili. E se l'opportunità non si presenta, gli fa di tutto per trovarne una. Per il guerriero, compiere un'azione o esprimere qualcosa equivale a diventarne proprietario. Egli ne assume la piena responsabilità, anche per ciò che ne consegue. Il samurai è immensamente leale verso coloro di cui si prende cura. Egli resta fieramente fedele a coloro di cui è responsabile. La giuterra! 45! La giuterra! 45! La giuterra!